È ufficiale lunedì prossimo 18 ottobre alle 21 è convocato il Consiglio Comunale di Domodossola. Questa mattina l'Ufficio Segreteria ha inviato ai neo consiglieri eletti la convocazione. L'Assemblea Municipale per rispetto alle normative anti-covid si terrà nell'ampia aula magna delle scuole medie Florianini in via Terracini. L'ex cappella Mellerio dove abitualmente si riunisce il Consiglio Comunale in epoca covid è troppo piccola per contenere il pubblico che si pensa vorrà assistere ai lavori. La seduta si aprirà con il giuramento del riconfermato sindaco Lucio Pizzi quindi il Consesso Domese sarà chiamato ad eleggere il presidente che dovrà occuparsi della vita del Consesso Municipale per il prossimo quinquennio. Sul nome del papabile presidente si azzarda un'ipotesi potrebbe andare a Simone Racco per esempio il secondo per gradimento della lista Lucio Pizzi sindaco. Dalla sua Racco oltre ai 370 voti incassati anche l'esperienza acquisita nella scorsa legislatura sui banchi dell'aula storica della Resistenza. I rumors cittadini danno in pola anche l'ex leghista Marco Bossi uno dei tre transfughi della Lega prodati in estate alla Corte di Pizzi. Il sindaco per il momento preferisce non sbilanciarsi, lo si è nell'agenda degli impegni dei prossimi giorni. Intanto a metà della prossima settimana si riunisce per la prima volta il gruppo consigliare di maggioranza. È il primo incontro dopo i festeggiamenti di lunedì sera. Fra le priorità che Pizzi deve affrontare nei prossimi giorni c'è però anche la questione relativa alla composizione della squadra di governo. Diminuirà è certo il numero degli assessori, si passerà da 5 a 4. Questo lascerebbe intendere una diversa distribuzione delle deleghe rispetto al passato. Tutte ipotesi al momento parrebbe esserci una sola certezza. La riconferma nella casella dei lavori pubblici dell'assessore Franco Falciola. L'annuncio è atteso per la prossima settimana, mentre la distribuzione delle deleghe sarà annunciata solo nel corso del primo consiglio comunale.